Ciao a tutti, qui è Deborah Shoreniasi in diretta da Gerusalemme. Oggi voglio parlarvi dell'importanza di lavorare con della mano d'opera altamente qualificata, anche se in me non sempre la più economica. Se è importante per voi un appartamento di alto livello con le finiture precise, non si potrà fare a meno che scegliere degli operai specializzati e molto bravi. Oppure se nel vostro appartamento vi sono dei dettagli progettati secondo un design particolare, come ad esempio la doccia nella quale mi trovo io adesso, che ho progettato recentemente per un mio cliente italiano. In questo caso sarà necessaria mano d'opera con infinita pazienza, che lavori senza fretta e in maniera precisa. Come si può vedere il piastrellista ha dovuto in primo luogo attaccare il mosaico su una piastrella di base e soltanto successivamente montare la piastrella finita e questo è un lavoro che richiede molto tempo e molta precisione. Il mio consiglio è quello di non risparmiare, di rivolgervi alla mano d'opera migliore e per questo motivo è importante consigliarvi con il vostro architetto andare a vedere delle opere già svolte dal cadlan, dalla ditta costruttrice in questione in modo da essere sicuri di avere il meglio. Se il video vi è stato utile potete farmi like qui sotto, diffonderlo su Facebook e potete entrare nel mio sito e ricevere gratuitamente la guida per la casa dei vostri sogni in Israele. Noi ci vediamo nel prossimo film.